Proseguono le segnalazioni dei residenti di Fano 2 sui ritrovamenti di esche nocive all'interno dello sgambatoio per animali nel parco del quartiere, a destare le preoccupazioni dei cittadini e l'incolumità degli animali nell'ingerire sostanze che possono andare a nuocere la vita del proprio cane. A poche settimane dalla prima segnalazione arrivata in redazione, gli episodi continuano a persistere, preoccupando dunque i residenti. Qui nel quartiere siete preoccupati? Beh, oddio, adesso con i cani penso proprio di sì. È un atto a dir poco ignobile, cioè una cosa del genere. A uno se non piace i cani c'è bisogno di fare queste cose. Io le farei mangiare a chi ce l'ha messe, perché sinceramente far del male delle povere bestiole è quantomeno assurdo, quindi per me è assurdo. Secondo gli esiti analitici svolti dal servizio veterinario dell'Asur, che come da prassi ha inviato a sua volta l'esca in questione all'istituto zooprofilattico di Pesaro, per accertare la composizione è emerso l'esito negativo della presenza di sostanze tossiche più comunemente utilizzate. Ovviamente possiamo rassicurare i cittadini che molto probabilmente l'esca non è un'esca avvelenata, anche se in maniera, non si può escludere al 100%, che possono essere usate anche sostanze che è difficile trovare o cercare con i comuni esami di laboratorio. L'episodio verificato nel quartiere di Fano 2 non è solo a destare preoccupazione. In via del fiume, zona vecchio mattatoio, l'esca trovata è costituita da un osso spaccato a metà, dove all'interno è stata ritrovata una sostanza molto tossica riconducibile alla metaldeide. Queste sostanze una volta ingerite che cosa provocano negli animali? Generalmente agiscono a livello del sistema nervoso, quindi con spasmi muscolari, disturbi che possono anche essere vomito e diarrea, fino ad arrivare se la sostanza ingerita rispetto al peso dell'animale c'è una giusta proporzione, può causare la morte dell'animale e spesso si arriva per blocco respiratorio. Grazie a tutti.